Buongiorno, siamo qui con Stevenin Marco che adesso ci spiegherà, sono le 6 e un quarto di mattina Scusa perché poi ho un party Sì sì, ci spiegherò subito La domanda è, cos'è lo zigget? Cosa succede? Ma lo zigget è davvero una gran figata Andrea Amarelli per la RTB Sì sì, scusate No, la mattina è bellissima, cioè la mattina, cioè la mezzogiorno è bellissima perché ti svegli Buongiorno E poi diciamo che passi tutto il pomeriggio a cercare un posto dove mangiare e bere, no? Poi dopo iniziano i concerti E poi mi piace che tutti Ho chiesto di essere E ora alle 6 dicono Sì, alle 6 in sala c'è No, 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 no No, 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 no No, no, no a mangiare, bere, cioè a cercare un posto di mangiare e bere, complimenti, poi la sera devi cercare un concerto, intanto non ce ne frega un cazzo dove vai, l'importante è ballare, vedere gente, bere, poi alla fine della fiera. E così vai avanti fino alle sete del mattino, è una figata. Grazie e buon divertimento, lei si ferma fino... Sì scusa devo scappare, c'è qualcuno, 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 persona molesta che mi deve rompere i coglioni come sempre, ottimo a rilearci, salve, lei che cazzo vuole? Io supporto tutto quello che vuoi, se tu ti fai d'accordo, questo festival è di merda, senza fichier, io non comprendo come si fa, culpe tutto il tempo. Piove, piove, tempo di merda, fango e pioggia. No, 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 no.